Musica Sabato 24 agosto, buonasera a tutti voi, bentornati al TG2000 in primo piano a tre anni dal terremoto strappata la speranza le comunità del centro Italia ferite sono ancora alla ricerca di un futuro possibile ad Amatrice, oggi è il lutto cittadino dopo la veglia della notte la messa celebrata dal Vescovo di Rieti, Monsignor Pompili andiamo subito in diretta ad Amatrice con Barbara Masulli buonasera Barbara Buonasera Fabio oggi come dicevi tu è la giornata del ricordo qui ad Amatrice dove sta cominciando a piovere una giornata molto lunga iniziata la scorsa notte ad Amatrice come a Pescara del Tronto o ad Accumoli si sono svolte le veglie per ricordare le vittime solo ad Amatrice se ne contano 240 la gente, la popolazione si è riunita per pregare i propri cari ha elencato uno per uno i loro nomi Amatrice si è svegliata con un lutto cittadino in realtà non è mai andata a dormire alle 11 si è svolta al Palazzetto dello Sport la cerimonia, la messa presieduta dal Vescovo di Rieti Monsignor Pompili presenti molte autorità come il Presidente della Regione Lazio l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi c'erano tantissime persone centinaia di cittadini familiari delle vittime il sottosegretario la Presidenza del Consiglio Crimi ha assicurato che le trattative per il nuovo governo queste trattative non sarà certamente in discussione la ricostruzione una ricostruzione che però va molto a rilento non si arriva infatti al 5% in tutta l'area del cratere in tutte le zone terremotate una ricostruzione dunque molto lenta non procede speditamente come ci si aspettava sono state anche le parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli duro Monsignor Pompili che a inizio messa ha chiesto perdono per le parole false, vuote e prive di significato che in questi anni abbiamo detto e ascoltato ha detto Pompili al termine delle sue parole è partito un applauso spontaneo da parte dei cittadini manca e mancata in questi anni una visione d'insieme ha detto il Vescovo di Rieti ascoltiamo una parte dell'omelia ci vuole una visione questo è il mondo nuovo a dire il vero più che una visione in questi tre anni sono prevalsi punti di vista diversi anche a motivo dell'alternarsi di governi di responsabilità personali di varia umanità e la tendenza ogni volta è stata quella di ricominciare da capo nel modo esattamente contrario a chi è venuto prima l'effetto inevitabilmente non poteva essere che lo stallo senza un progetto cioè senza un respiro lungo non si va da nessuna parte e come si vede proprio in questi giorni l'Italia stessa boccheggia e non certo per il caldo più che una visione in questi tre anni si è fatta strada una certa confusione se manca uno sguardo condiviso si spegne anche l'entusiasmo dunque dicevamo Amatrice oggi lutto cittadino tutti i negozi i ristoranti sono rimasti chiusi per volontà del sindaco Amatrice che prima del terremoto contava 2700 residenti dopo il sisma il 40% di loro è andato via coloro che sono rimasti nella cittadina abitano le cosiddette SAE 537 case soluzioni abitative di emergenza ma c'è anche chi una SAE non è riuscita ad averla è la storia di Maria Progli perché si è trasferita ad Amatrice solo poche settimane prima del sisma quindi lei è rimasta in una tenda per un anno poi si è trasferita in una roulotte infine in un container e solo pochi giorni fa grazie a una Ollus ha ricevuto una casetta ma ci sono ancora dei problemi la sua storia nel servizio con il quale restituisco la linea allo studio qui c'è la cucina l'angolo cottura qui metterò un divano Maria ci mostra la casetta donata dall'associazione la via del sale Ollus dove presto si trasferirà con la famiglia la sua casa di Cossito frazione di Amatrice comprata un mese prima del terremoto è crollata ho detto cerchiamo la Amatrice e il mio marito va e dice guarda che Amatrice è zona sismica ma compro io arrivo al terremoto detto fatto Maria ha richiesto una soluzione abitativa di emergenza la cosiddetta SAI ma la sua domanda dopo due anni è stata respinta perché non aveva la residenza ad Amatrice da almeno sei mesi prima del sisma quindi in questi tre anni come e dove avete vissuto? abbiamo vissuto il primo anno nella tenda il secondo anno nella roulotte e il terzo anno in un contene che ci ha donato la Caritas condizioni che l'acqua si gela perché giustamente i tubi stanno tutti fuori adesso Maria il marito e il figlio si trasferiranno in questa casetta con le ruote sistemata nello stesso punto in cui sorgeva la casa crollata la buona notizia è che fra qualche mese dovrebbe partire nello stesso punto la ricostruzione della loro nuova abitazione per questo la casetta con le ruote deve essere spostata guarda mi hanno detto che quasi sicuramente mi la mettono qui nel giardino che così non do fastidio se dovrebbero ricostruire dovranno ricostruire continuando avanti vediamo quello che succede speriamo che qualcuno ci dà una mano però la prospettiva di avere una casa qui c'è concreta non mi muovo da qua arrivo a rivedere casa come era prima in Italia resta ancora senza un governo PD e 5 Stelle continuano a trattare ma emergono ambiguità dal lato grillino e tensioni contro la possibile alleanza domani PD in riunione per preparare i punti di trattativa Flaminia Festuccia democratici al lavoro per l'accordo di governo domani alle 15 partono i sei tavoli per definire il programma sui dossier da portare al confronto con i 5 Stelle un lavoro di definizione degli obiettivi programmatici per trovare punti di contatto con gli interlocutori del movimento per adesso però le trattative sembrano arenate su due punti fondamentali il nome del premier che per i 5 Stelle è un conte bis mentre per i dem la parola d'ordine per l'accordo è una e una sola discontinuità e i tempi della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari facciamola subito continuano a insistere dal movimento lato PD invece si chiede che venga inserita in un disegno complessivo di riorganizzazione istituzionale modifica della legge elettorale compresa quello che più rinfacciano i democratici all'interlocutore 5 Stelle è l'incertezza lo sottolina nuovamente su Twitter il deputato PD Andrea Orlando che lamenta la poca coerenza nelle trattative insoddisfazione reciproca mentre si affollano voci di trattative parallele 5 Stelle e Lega con la Lega che non conferma ne smentisce ma si dice aperta a tornare al tavolo per un nuovo contratto di governo il movimento si divide e cresce la fronda anti-PD e i democratici affrontano polemiche interne dopo l'attacco di Renzi che accusa Gentiloni di manovre per far saltare l'accordo con frasi che non sono piaciute al segretario Zingaretti che avverte sono dichiarazioni come queste che mettono a rischio e logorano la nostra credibilità le altre forze politiche restano a guardare in attesa degli sviluppi ma le posizioni del centrodestra finora granitiche verso il voto si stanno spostando se è vero il messaggio del vicepresidente di Forza Italia alla Camera Rotondi trapelato in queste ore Rotondi invita la cautela nel chiedere le elezioni e fa notare con l'8% di Forza Italia da 170 parlamentari azzurri ci troveremo in 30 massimo 60 e proprio oggi la CGA di Mestre avverte il peso maggiore delle tasse in Italia ricade sulle piccole imprese pagano quasi 4 miliardi e mezzo in più di imposte rispetto alle medie e grandi industrie sentiamo Leonardo Possati la denuncia arriva dalla CGA di Mestre l'associazione di artigiani e piccole imprese secondo la quale nel nostro paese i lavoratori autonomi e le aziende minori pagano un contributo al fisco ben più rilevante delle grandi aziende numeri alla mano nel 2017 sono stati pagati all'erario 42,3 miliardi di euro pari al 53% degli oltre 80 miliardi dati da tutto il sistema produttivo tutte le altre imprese prevalentemente medie e grandi invece hanno corrisposto 37,9 miliardi ovvero il 47% del totale da questo dato nasce la richiesta degli artigiani di Mestre che vogliono si torni a guardare con maggiore attenzione al mondo delle piccole e alle micro imprese visto che la tassazione è insostenibile e il credito viene concesso con il contagocce a questo va aggiunto poi un altro aspetto che rende ancora più precaria la sussistenza delle piccole imprese la montare del debito commerciale della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori 57 miliardi di euro mancati i pagamenti che sono soldi sottratti a tante imprese che ne hanno un vitale bisogno e continua a bruciare l'amazzonia il presidente Bolsonaro accerchiato dalle accuse dei leader del mondo invia finalmente l'esercito per spegnere le fiamme i vescovi brasiliani invitano ad alzare la voce per fermare le depredazioni Sandra Pezzurro quello che state vedendo sono le immagini satellitari che hanno catturato gli incendi e la terra carbonizzata della foresta pluviale amazzonica a roghi che infuriano nelle zone di confine con Brasile Bolivia e Paraguay il polmone della terra continua a bruciare mentre da tutta la terra si leva il grido di dolore e di protesta per la superficialità con cui si sta affrontando la situazione molti cittadini brasiliani sono scesi in piazza contro la politica ambientale del governo e solo ieri dopo 17 giorni di incendi oltre 9.000 nell'ultima settimana il presidente brasiliano Bolsonaro ha garantito l'intervento dell'esercito la foresta amazzonica è parte essenziale della storia del Brasile ha detto in diretta televisiva ma ciò che teme di più forse sono le sanzioni internazionali dopo il primo tweet del presidente francese Macron a cui hanno fatto seguito l'appoggio del governo tedesco e di quello inglese il caso amazzonia è finito sul tavolo del G7 a scendere in campo è anche la conferenza episcopale brasiliana e lo fa con determinazione senza mezze misure non c'è più tempo per i discorsi politici scrivono non è il momento delle discussioni sui giudizi o degli induggi in parole alzano la voce i vescovi richiamando al senso di responsabilità sull'esempio di Papa Francesco lasciateci essere guardiani della creazione dall'altra parte il tweet di Trump che si dice pronto ad aiutare il collega Bolsonaro le nostre prospettive commerciali sono entusiasmanti e il nostro legame è forte forse più di sempre twitta offrendo l'aiuto degli Stati Uniti per gli incendi in Amazzonia dal mondo della scienza il monito se non si agisce velocemente in 10-15 anni avremo raggiunto il punto di non ritorno la foresta amazzonica che sta agonizzando ricordiamolo produce il 20% dell'ossigeno del pianeta e anche l'Amazzonia sarà tra i temi affrontati dai leader riuniti da oggi al G7 padrone di casa Emmanuel Macron il presidente Trump arriva al summit in Francia pensando a Dazi sui vini francesi Marco Burini guerra commerciale Stati Uniti Cina Amazzonia in fiamme Brexit per non parlare degli altri dossier il G7 che si apre oggi a Biarris nota località balneare sull'Atlantico ha un menu ricco pure troppo la formula di questi summit è ormai logora mancano protagonisti come Cina e Russia esclusa dopo la questione Crimea e non producono impegni vincolanti senza contare i problemi di sicurezza e le contestazioni che i leader si incontrino faccia a faccia di per sé è positivo ma sono bastate le prime dichiarazioni per capire che ognuno è più preoccupato di dire la sua che ascoltare l'altro rispondendo al presidente del consiglio europeo Tushk il premier britannico Johnson ha ripetuto che o l'Europa toglie il backstop la clausola per l'Irlanda o non ci sarà accordo poi ha cercato di fare da pacere tra americani e cinesi sui dazi quelli che Trump ha minacciato di mettere sui vini francesi prima di arrivare a Biarris dove invece ha detto a Macron che sarà un weekend magnifico Macron che a sua volta ha litigato con Bolsonaro per gli incendi in Amazzonia questione che sta a cuore anche alla cancelliera Merkel voce autorevole la sua ma in scadenza di mandato dopo decenni al vertice dimissionario anche il presidente del consiglio Conte che a Biarris tra gli altri incontrerà il presidente egiziano Al Sisi con cui parlerà di Giulio Eregeni torniamo a Hong Kong riprendono gli scontri e le proteste dopo la catena umana pacifica dei cittadini per difendere libertà e democrazia la polizia risponde con la forza Luca Lucchiata ancora proteste ancora disordini ancora scene di guerriglia nel pomeriggio di oggi a Hong Kong ha ripreso la violenza dopo lo scorso fine settimana di tregua e l'iconica catena umana lunga 40 chilometri che ieri sera ha visto migliaia di cittadini manifestare pacificamente per la libertà e la democrazia adesso torna lo scenario già visto gli scontri tra manifestanti e polizia al lancio di mattoni e molotov le forze dell'ordine intenuta antisommossa hanno risposto con cariche lacrimogeni la marcia inizialmente partita senza troppe tensioni e poi degenerata all'arrivo di manifestanti che hanno occupato con barricate una strada adiecente una stazione di polizia così sotto i riflettori nel dodicesimo weekend di proteste è finita nuovamente la frangia più estrema del movimento da mesi infatti manifestano contro una modifica alla legge sull'estradizione poi ritirata ma non è bastato la protesta ora si è allargata all'insofferenza verso la Cina la tensione oggi in particolare è stata contro il progetto del governo di installare lampioni intelligenti con videosorveglianza nel frattempo le autorità cinesi hanno fatto sapere che Simon Cheng il dipendente del consolato britannico è stato liberato dopo settimane di detenzione nella Cina continentale continua la visita del cardinale Gualtiero Bassetti sui luoghi degli attacchi terroristici di Pasqua in Sri Lanka per portare da presidente della CEI la vicinanza della Chiesa Italiana ma anche aiuti concreti come ci racconta Paolo Fucili il cardinale Gualtiero Bassetti in abito bianco come è usuale tra gli ecclesiastici a latitudini tropicali prega accanto al cardinale di Colombo di fronte ad una lapide con scritti più di cento nomi sono parte delle vittime quasi 300 dei sanguinosi attentati del 21 aprile scorso domenica di Pasqua in chiese ed hotel della capitale dello Sri Lanka ecco San Sebastiano a Negombo dove erano soprattutto famiglie con bambini intenti a celebrare la messa quelle su cui si è accanito l'odio dei kamikaze e attentatori estremisti islamici come anche a Sant'Antonio visitata ieri da Bassetti un attacco che ha scosso la delicata convivenza nell'isola tra diverse comunità etniche e religiose e ancora quattro mesi dopo non è stata avviata un'inchiesta equa giusta imparziale denuncia una lettera dei vescovi cattolici locali diffusa la settimana scorsa Bassetti presidente dei vescovi italiani è in viaggio nello Sri Lanka per portare la solidarietà della chiesa italiana non solo a parole c'è anche un istituto agricolo scuola e tre fattorie a Varadala ristrutturato ed ammodernato con 800.000 euro di finanziamento del comitato CEI per gli interventi caritativi nel terzo mondo diretto da Don Leonardo Di Mauro con i fondi dell'otto per mille alla chiesa cattolica quel portone colpito dall'esplosione resterà aperto per il nostro amico il vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aniello si rivolge così all'uomo poi arrestato che ha dato fuoco ieri pomeriggio a tre bombole di gas da campeggio davanti all'ingresso della curia irpina a causa della deflagrazione tre persone sono rimaste ferite fra cui il direttore della Caritas c'è rabbia c'è del bisogno continua il vescovo c'è la carità che non si ferma non minimizzo il fatto conclude Monsignor Aiello ma la porta resta aperta potrebbe esserci la prima vittima da sigaretta elettronica la notizia è stata diffusa da media statunitensi in base a rivelazioni di autorità sanitarie restano verifiche da compiere ma nel mentre si cerca di capire la relazione tra il decesso e l'uso di sigarette elettroniche come anche capire le ragioni di ricoveri sospetti per patologie polmonari ecco Beatrice Bossi il New York Times ha pubblicato la notizia sul sito internet prima morte certificata da funzionari sanitari si legge nel titolo per vaping il termine inglese significa letteralmente inalare vapore in italiano è stato tradotto coniando il termine svapare che praticamente è quello che si fa con la sigaretta elettronica l'articolo del giornale statunitense per quanto autorevole in realtà non approfondisce molto l'argomento non si conosce né il nome né il sesso né l'età di questa presunta vittima il giorno preciso del decesso è un mistero come anche è impossibile sapere se già soffriva di qualche patologia respiratoria ma la notizia della prima morte a causa di una sigaretta elettronica è rimbalzata comunque in tutti i media del mondo turbando non poco milioni di fumatori scavando allora negli archivi del Dipartimento della Salute Pubblica statunitense si scopre che sono stati centinaia i ricoveri per disturbi polmonari legati all'utilizzo di queste sigarette 153 per la precisione solo nell'ultimo periodo in 16 differenti stati d'America si tratta per lo più di giovani arrivati al pronto soccorso con diverse patologie ma con il vizio comune di inalare vapore da questi dispositivi le autorità sanitarie stanno cercando di capire adesso se ci possa essere stata una contaminazione tossica del liquido inalato o se le sigarette elettroniche siano state acquistate fuori dai circuiti ufficiali in Spagna invece si conta la seconda vittima per contagio dagli steriosi si tratta di una persona di 72 anni già gravemente malata i casi confermati salgono a 200 l'Unione Europea ha confermato che il focolaio è limitato alla Spagna dove si è proceduto al ritiro dal mercato dei lotti di carne suina contaminati in Andalusia vi portiamo ora in Galilea in uno degli ultimi villaggi interamente cristiano della Terra Santa dove i suoi abitanti stanno diventando famosi per un'avventura archeologica davvero speciale la scoperta di un castello crociato e non solo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti hanno scoperto la più grande azienda e vinicola dell'epoca crociata e già annunciano nuovi scavi non solo nel castello di Re Baldovino III ma anche nelle cantine del villaggio dove preziosi mosaici bizantini sono ancora tutti da svelare a rendere unica l'ultima avventura archeologica nel sottosuolo di Miglia è il fatto che la campagna di scavi è stata interamente finanziata dai suoi abitanti siamo in Galilea vicino al confine con il Libano in uno degli ultimi villaggi rimasto interamente cristiano Rabbi Kaminsky archeologo di Miglia è uno dei 3.000 abitanti nel gennaio del 2017 sono cadute alcune pietre da questo punto del muro del castello non era la prima volta accadeva ogni inverno da almeno 30 anni dalla finestra di casa vedo il castello ho chiamato mia moglie e gli ho detto dimenticati di me per 3 o 4 mesi perché se il castello crollerà lasceremo il villaggio non meriterei più di vivere qui l'idea vincente è quella di non imbarcarsi nell'utopico e costosissimo progetto già più volte naufragato di restaurare interamente il castello costruito probabilmente dal figlio della regina crociata Melisenda nel 1150 ma di iniziare mettendo semplicemente in sicurezza il muro pericolante ciascuno deve metterci il costo di due pacchetti di sigarette non uno shekel in più in pochi mesi l'archeologo convince da un lato i suoi concittadini a raccogliere gli 87.000 euro necessari al restauro e dall'altro l'autorità israeliana delle antichità ad autorizzare gli scavi la passione archeologica si propaga nel villaggio Salma Saf scavando nel suo seminterrato ha scoperto un muro di epoca crociata il primo pezzo dell'antica e preziosa vineria che sarebbe presto venuta alla luce ho trovato un tesoro carattere e dimensioni la rendono unica nel panorama finora noto del tempo crociato e per questo l'antica vineria sarà visibile ai clienti del nuovo ristorante che Salma sta per aprire grazie all'aiuto di uno chef originario di Miglia che ha lavorato per 35 anni in Italia il sapore della cucina italiana è anche materia prima che arriva dall'Italia ancora tutto da realizzare il progetto degli Araf professore in pensione che sotto il pavimento di casa nasconde un altro tesoro un mosaico ricco e colorato ricco e colorato di epoca bizantina lo hanno scoperto 25 anni fa i miei genitori durante dei lavori di ristrutturazione ma lo hanno coperto per timore dell'autorità israeliana delle antichità io ho deciso di autofinanziare gli scavi nella mia proprietà per portare alla luce questa eredità che non è mia ma è patrimonio di tutti Torna a guardare all'Europa il meeting di Rimini oggi con il presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli critico con la strumentalizzazione dei simboli religiosi in politica Marco Bergamaschi Se la crisi sarà superata positivamente avremo riconquistato un posto di primo piano per il nostro paese in Europa a Rimini al meeting per l'amicizia dei popoli in un confronto dedicato alle sfide che attendono Strasbourg e Bruxelles il presidente del Parlamento Europeo Sassoli accenna l'attuale situazione italiana non si governa con pieni poteri aggiunge la settima potenza mondiale e auspica un rilancio dell'impegno cristiano per la verità che i cattolici hanno il dovere di opporre a chi ancora oggi in Polonia in Ungheria e anche in Italia osa agitare i simboli della nostra fede come amuleti con una spudoratezza blasfema i porti devono restare aperti aggiunge Sassoli impegniamoci in Europa per affrontare il fenomeno migratorio e per riformare il regolamento di Dublino noi dobbiamo difendere l'Europa ma anche cambiarne le politiche ecco perché dobbiamo fare in fretta il governo italiano saprà diciamo indicare la persona per la commissione per cominciare questo percorso per il quarantesimo meeting di Rimini è tempo di bilanci 179 incontri 625 testimoni ed esperienze legate dal desiderio di costruire ponti tra culture e fedi diverse con uno sguardo già al prossimo meeting che avrà come titolo una frase di Abraham Joshua Eschel rabbino e filosofo polacco privi di meraviglia restiamo sordi al sublime ed ora il cinema si è spento a 83 anni l'attore italiano Carlo Delle Piane da Totò a Pupiavati ha partecipato a 110 film lunedì i funerali lo ricordiamo con Fabio Falzone c'è la mia vita di uomo che mira parallelamente con la vita dell'attore per fortuna io sono Carlo Delle Piane una vita in pellicola si può raccontava così Carlo Delle Piane qualche anno fa negli studi di TV 2000 la sua passione per il cinema una carriera fatta di arresti e di nuovi inizi ma che ha fatto di lui un caratterista amatissimo dal pubblico dal debutto giovanissimo con Sordi Fabrizi Gasman e naturalmente Totò Guardie Ladri mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo mi ricordo che una volta che lui li indicò in autobus uno lo chiamò Scuccione per la strada quando mi indicavano non ha mai avuto il complesso della mia bruttezza però non capivo mai se lo facessero perché riconoscevano quel bambino l'attore o perché vedevano questo 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 ragazzo così particolare e poi l'incidente del 1973 che ne aveva bloccato la carriera che lo portò però ad un nuovo inizio l'incontro con Pupi Avati titoli come il regalo di Natale una gita scolastica festa di laurea tutti i personaggi crepuscolari in qualche modo da perdente ma che lo avvicinano al cinema di qualità gli fanno avere premi e riconoscimenti negli ultimi anni anche per ragioni di salute dal cinema è stato lontano ma lui non rinunciava a sognare io continuo ad amare la mia professione a lavorare con grande determinazione sono giunti in migliaia per vedere suonare l'aria si è tenuto in Finlandia il campionato mondiale di air guitar la sfida dei suonatori di chitarre invisibili Silvio Vitelli chitarristi scatenati ma senza chitarra è il campionato mondiale di air guitar tradotto letteralmente chitarra aerea perché i gesti sono quelli dei chitarristi più pazzi e folcloristici ma si tratta di un playback strumentale anziché cantato cosa mi porta qui? questa gente guardala non importa se piove potrebbe anche nevicare non importa che lingua parliamo o per quale partito votiamo stanotte siamo tutti uguali per quale motivo lo fanno? ognuno ha il suo secondo me è semplicemente la follia di voler fare una cosa idiota io mi diverto la vittoria è andata a questo giovane americano esibizioni che ricordano per molti versi quelle delle drag queen fingere di essere una star abiti decisamente sopra le righe come le movenze il playback e persino un nome d'arte sono avvocati dottori la loro vita in alcuni momenti può essere noiosa e questo è il posto dove viene fuori la stella del rock che è in loro rock star negli anni si sono esibiti concorrenti di ogni età Mr. Bob è stato il più anziano puoi avere 19 o 90 anni e puoi farlo ugualmente basta tirare fuori tutta l'energia che vuoi finché un dottore non ti dica di fermarti è tutto ci vediamo alle 20 e 30 con una nuova edizione del TG2000 grazie per averci seguito è più tardi grazie per averci seguito